Poteva essere un bilancio disastroso quello dell'incidente che si è verificato attorno alle 16.30 di oggi nel famigerato e tristemente noto incrocio tra via Papiria e via dell'aeroporto. Invece mamma e quattro figli sono miracolosamente usciti in lesi dalla Mercedes van che conduceva la donna. La dinamica è ancora al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale di Fano ma dai primi rilievi è emesso che il van con a bordo la mamma e i quattro bambini proveniva dall'aeroporto ed era diretto verso Tre Ponti ma all'incrocio con via Papiria è stato urtato da un autocarro con tre operai a bordo ripartiti dallo spartitraffico. L'urto con l'autocarro ha fatto perdere il controllo del mezzo alla donna che è finita in mezzo alla carreggiata mentre arrivava dalla parte opposta a un camion a due assi proveniente dalla zona industriale di Bellocchi. Solo la prontezza di riflessi ed il sangue freddo del suo autista hanno evitato il frontale allargandosi e schivando così il van impazzito che però ha finito la sua corsa incastrandosi tra il guardrail della curva ed il cassone del camion. Mamma e figli sono stati immediatamente soccorsi e sono stati fatti uscire dal mezzo dai sanitari del 118 con l'ausilio dei vigili del fuoco di Fano che sono arrivati subito sul posto assieme a due pattuglie della municipale che hanno anche regolamentato il traffico ed una pattuglia della stradale. Oltre ad un altro mezzo della Croce Rossa italiana è arrivato sul posto per dare supporto al 118 per assistere gli altri conducenti coinvolti che comunque non hanno riportato nessun danno fisico. Ora i quattro bambini e la madre sono al pronto soccorso della Santa Croce di Fano per gli accertamenti ma le loro condizioni non sono gravi.